Ciao a tutti, sono tornata. Volevo dirvi che mi piacciono tantissimo i fichi e oggi vi propongo una ricetta facilissima proprio anche per l'incapace di cucina con solo i tre, poco più, ingredienti per portare a tavola i fichi in maniera molto chic. Prepariamo un finger food dei bocconcini di fichi con il prosciutto e il caprino. Ingredienti ovviamente fichi, i roccietti verdi e piccolini prosciutto crudo, caprino quindi solo tre ingredienti poi potete aggiungere sale e pepe un goccino di miele e una noce se volete. Lavate e asciugate bene i fichi e tagliateli a spicchi senza arrivare alla base. Condite il caprino con un pizzico di sale e un pizzico di pepe e farcite i fichi. Aggiungete per ogni fico una piccola fetta di prosciutto decorate con delle noci e se volete con del miele. Eccoli qua bocconcini di fichi prosciutto crudo, caprino e noci. Avrei aggiunto anche il miele ma non ce l'avevo. Che dirvi? Seguitemi sul mio canale YouTube cliccando qui sopra da qualche parte e ogni settimana troverete nuovi video con ricette facili, veloci e golose come questa. D'altronde, che ci vuole? Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima! Iscriviti al nostro canale! Grazie a tutti.